In linea vanno messi, vedete che questa è una linea da levare, in linea vanno messa a poca volta, se no si affoca, si affoca che vuol dire che se risiede un fumo da entra e si affoca la luce, mentre a poca volta ero a piccia pulito pulito e vanno appiccicato sempre dal lato destro, vedete che aspetta con una piccia e io sposto il forno, sembra niente, però è pure un'artica che non sa fare il forno, tanti e tanti mi dicono, signora, il mio pane non mi viene buono, se brucia, perché è tutta la maestria, io si faccio il forno, perché vuole alimentare il forno, vuole messi le linee a regolare, come si dice, io non mi andava assai, mi andava poco, parola, ma l'ho fatto, non c'è un po' un certo di esperienza, non è che io sono più brava che l'altro, no, no, questo non lo dico, perché davanti che stanno fanno il pane o registrano il forno, però c'è un'esperienza, vedete, piano piano io usare la menta e sapete sempre dal lato destro.